In questo tutorial utilizzeremo DeFiU come esempio per vedere come registrarsi nei prodotti dell'ecosistema Ultima. Vai sul sito DeFiU. Nella finestra in alto a destra troverai il pulsante Sign Up. Cliccaci sopra. Si aprirà la finestra di registrazione in SmartPass. Questo è il sistema in cui avviene la registrazione. Compila tutti i campi richiesti. E-mail, password, conferma della password, nome, cognome, paese di residenza. Dopo aver compilato tutti i campi devi accettare le condizioni d'uso. Leggile attentamente e spunta le tre caselle sul lato destro dello schermo. Dopo aver compilato i campi clicca sul pulsante Sign Up. Se hai fatto tutto correttamente vedrai un messaggio sullo schermo che indicherà che la tua registrazione è data a buon fine e che devi confermare la tua e-mail. Per confermare la tua e-mail fai al tuo account di posta elettronica e cerca un'e-mail da noreply.com. Se non vedi l'e-mail nella posta in arrivo controlla la cartella spam. Clicca sul pulsante Confirm Email che appare nel messaggio. Fatto! Ti sei registrato con successo in SmartPass. Clicca sul pulsante Go to DeFiU per accedere al sito web di DeFiU. Se hai ancora domande sul processo di registrazione puoi sempre contattare il nostro team di assistenza.